Dopo questo allenamento di petto avrete due mammelle così grosse da fare invidia alle vostre amiche Iniziamo con una smith machine a 30 gradi dove facciamo esattamente tre serie La prima un po' più pesante dove cerchiamo il cedimento dalle 5 alle 7 ripetizioni Mentre l'altra due un po' più leggera dove cerchiamo il cedimento dalle 8 alle 12 ripetizioni Mi raccomando sfruttate la smith machine per fare un movimento molto lento e strecciate per bene il petto quando scendete Se sei uno di quelli che dice che la smith machine non sarebbe di stare zitto perché non capisci un cazzo Perfetto ora facciamo tre serie di chest press nella prima serie cerchiamo il cedimento tra le 10 e le 12 ripetizioni Mentre le altre due serie arriviamo a 8 ripetizioni e poi facciamo un drop set Se questo video fa almeno un like riempiamo l'olo di steroidi Se non fai questa domani ti svegli elegante te lo giuro Come ultimo esercizio facciamo tre serie di croce e cave rispettivamente da 12, 10, 8 ripetizioni E facciamo un'ecentrica molto lenta di 3 secondi Se sta arrivata la fine di questo allenamento vi faccio i miei complimenti perché adesso mettiamo una quinta di seno Mi raccomando per altri elementi seguitemi